Regione Toscana, il Consiglio regionale. Economia circolare, rifiuti zero, impianti mille. È lo slogan utilizzato dall'assessore all'ambiente Monia Monni che ha illustrato in aula del Consiglio regionale gli esiti dell'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse a realizzare impianti di recupero e riciclo in Toscana, scaduto lo scorso 31 marzo. Sono in tutto 39 le proposte arrivate alla Regione, di cui 32 rispondenti ai requisiti richiesti. L'obiettivo è arrivare al massimo al 10% di conferimento in discarica attraverso nuovi impianti di riciclo e riuso, mentre oggi la Toscana ricorre per il 34% al sistema delle discariche nello smaltimento dei rifiuti urbani. Oggi ho reso la terza comunicazione sul piano dei rifiuti. La scelta è stata quella di condividere passo per passo la redazione del piano con il Consiglio regionale che ha la competenza di approvare il piano dei rifiuti che diventa piano dell'economia circolare. Oggi abbiamo raccontato le 39 proposte che sono state avanzate nell'ambito dell'avviso pubblico. L'avviso è stato uno strumento che abbiamo ideato per capire quanto fosse profonda e stesa l'economia circolare sul territorio toscano. Abbiamo scelto di ribaltare la logica muscolare per cui la regione impone e sceglie il tipo di impianti e decide anche dove localizzarlo. Abbiamo chiesto a gestori e territori di avanzare delle proposte. Ne sono state avanzate appunto 39. Si va dall'impianto di recupero dei pannolini all'impianto che recupera maniettali preziosi di atterrerare dalle schede telefoniche all'impianto che recupera la poseidonia agli impianti più interessanti come dimensioni che vanno a sostituire gli impianti di termovalorizzazione che sono prevalentemente impianti industriali non vocati allo smaltimento ma alla produzione che dai rifiuti raffineranno un gas che darà vita a idrogeno, metanolo o etanolo. Sono additivi per benzine perché per la red 2 le benzine non potranno più essere di origine completamente fossile. L'idrogeno è uno dei vettori principali della transizione energetica e dall'etanolo si faranno polimeri di plastica. Sono impianti industriali che verranno inseriti in contesti industriali e che comunicheranno con quei settori industriali che gli stanno intorno. Si alimenteranno del cascame di calore di altri impianti e cederanno ossigeno o alcuni di questi prodotti che sono prodotti che sanno stare bene sul mercato. Ci sarà una fase intanto di valutazione tecnica perché l'intera proposta sarà sottoposta a valutazione ambientale strategica. Attraverso questo procedimento stabiliremo un tetto massimo di dotazione impiantistica che deve dare risposta ai rifiuti urbani ma anche ai rifiuti dei nostri distretti produttivi perché gli impianti che saranno realizzati devono essere impianti che rispondono ai bisogni toscani e solo toscani, di cittadini e imprese toscane. Accanto a questo ovviamente avvieremo una procedura di confronto con chi ha presentato queste proposte che non sono vincolanti né per chi le ha fatte né per noi che le abbiamo ricevute e proveremo a fare sintesi in modo che non ci sia disequilibrio su scala regionale. Ovviamente non sono impianti di smaltimento sono impianti di produzione questo cambia molto la logica e ovviamente usciamo dalle dinamiche solite diciamo così e anche dalle funzioni che strettamente ci attribuisce la legge e ci inoltriamo davvero nel terreno nel territorio dell'economia circolare. Soddisfa le aspettative e devo dire che il settore delle aziende che gestiscono i nostri rifiuti ha fatto un grande salto di qualità non sono più soltanto quelli che raccolgono la spazzatura e si preoccupano di smaltirla ma sono entrati davvero in un'ottica pienamente circolare e industriale. Credo che questo potrà dar vita nella nostra regione non soltanto all'autosufficienza dal punto di vista del trattamento dei nostri rifiuti ma una vera industria del riciclo e del recupero che potrà alimentare filiere produttive che sarà un'industria pulita e che creerà anche posti di lavoro. Ma avevamo già denunciato lo scorso febbraio che fare una discussione in assenza dell'esito del bando che si è chiuso il 31 marzo dopo due proroghe avrebbe avuto poco significato. Ci dissero che sbagliavamo ma oggi l'assessore torna a darci il resoconto non troppo dettagliato di quel bando che ha visto la presentazione di ben 39 progetti il che significa evidentemente che in Toscana c'è voglia ma soprattutto c'è bisogno di impianti perché le tariffe stanno toccando livelli altissimi i comparti produttivi sono in difficoltà i cittadini non riescono più a star dietro agli aumenti dell'Atari. Purtroppo soprattutto chi ci rimette di più sono le nuove generazioni perché continuiamo in Toscana a sotterrare bene il 34% dei rifiuti in discarica perché questa sinistra non è stata in grado di dare alla regione una delle regioni più importanti del mondo un piano dei rifiuti degno di questo nome e non c'è nemmeno oggi il termine cioè il tempo entro il quale i nuovi impianti della cosiddetta economia circolare saranno pronti. La comunicazione della Giunta è esattamente quello che ci aspettavamo la Giunta non ha deciso dopo anni in cui si parla di rifare il piano dei rifiuti si arriva a fare una manifestazione di interessi e quindi chiedere ai privati perché ci si trova con l'acqua alla gola per risolvere un problema. Ma in realtà questo non è un buon procedimento non è un buon procedimento a nostro avviso perché così come quando furono definiti gli ambiti territoriali e quindi leato si tracciò le treato sulla mappa della Toscana senza tener conto né della popolazione né dei rifiuti prodotti e anche in questo caso facendo questa manifestazione di interessi cioè chiedendo ai privati se sono interessati a gestire degli impianti dei rifiuti e dove è chiaro che si viene meno a valutare correttamente che cosa serve in Toscana e questo è esattamente il quadro di quello che emerge oggi da questa manifestazione sono 39 impianti individuati su cui chiaramente ci dovrà essere tutta una procedura non sono sicuramente quelli definiti però sicuramente fanno capire la disomogeneità che c'è tra la popolazione e gli impianti e soprattutto dove vengono prodotti addirittura vediamo che ci sono sei impianti nella provincia di Livorno e nell'area più popolosa della Toscana forse ce ne sono due barra tre quindi questo modo di procedere noi non l'abbiamo capito noi abbiamo sempre detto che la legge 69 che è quella che regola il piano dei rifiuti andava rivista in toto e quindi siamo dell'idea che questo percorso che non sappiamo quanto durerà perché anche la fase transitoria è importante perché questo elemento oggi ci fa fare poca differenziata perché è quello che stiamo facendo abbiamo la seconda tariffa più alta d'Italia ma soprattutto esportiamo i nostri rifiuti anche fuori regione e all'estero pensate che noi esportiamo quattro tonnellate e mezzo di rifiuti organici in Olanda paghiamo l'Olanda e l'Olanda cosa fa con quei rifiuti ci fa energia quindi noi dobbiamo forse cambiare rotta e renderci conto veramente in che mondo viviamo perché anche a livello ambiente in generale in Toscana non solo sui rifiuti ma anche sull'area e sull'acqua qualche problema credo che lo abbiamo e soprattutto dobbiamo pensare non solo alle tariffe non solo agli impianti ma anche alla salute dei cittadini La Via dà un giudizio molto positivo dell'operato della Giunta dell'assessore Monni perché in questo momento è un confronto trasparente che mette in campo le proposte di molte aziende sono 17 quelle che si sono fatte vive con trasparenza 39 progetti noi chiedevamo trasparenza a livello di condivisione delle pregiattualità che emergono in Toscana auspichiamo che il piano dell'economia circolare non sia più un piano di rifiuti ma nel contempo diventa un piano industriale dell'energia toscana un progetto che possa produrre innovazione vantaggi per i cittadini toscani vantaggi per le imprese possa ridurre le tariffe dove a livello regionale ci sia un'unica grande cabina di regia e dove la trasparenza la partecipazione e il consiglio regionale siano protagonisti delle scelte insieme alle comunità locali insieme alle associazioni insieme alle imprese un disegno nuovo di una Toscana che cambia ma che nel contempo vuole essere green ma che crea occupazione e lavoro partendo da quello che ha al proprio interno quindi i propri rifiuti che diventano a quel punto riutilizzati non più un problema ma una risorsa ma di aspetti positivi ce ne sono almeno due nel metodo e anche nel merito nel metodo perché siamo alla terza comunicazione dell'assessore in otto mesi a dimostrazione che vuole completamente investire il consiglio durante tutto il percorso e quindi costruire assieme uno strumento che sarà fondamentale per tutta la Toscana e per tutti i toscani nel merito la manifestazione di interesse che era stata pubblicata e al cui risultato avevamo richiesto una nuova comunicazione appunto dell'assessore ha dato un risultato molto importante perché sono circa una quarantina le proposte impiantistiche che sono state fatte ora queste proposte andranno valutate molto bene per quanto riguarda la tecnologia utilizzata che noi abbiamo richiesto come consiglio essere una tecnologia affidabile e che prescinde tra l'altro dall'incenerimento dobbiamo far sì che questi impianti siano collocati un po' su tutto il territorio della Toscana in maniera tale che si risponda a quel criterio di autosufficienza dei territori e degli ambiti che anch'essi noi avevamo chiesti per due motivi perché c'è un bilancio ambientale da rispettare e i rifiuti con più vanno in giro vengono trasportati e più questo bilancio non è ambientalmente sostenibile e l'altro aspetto che dobbiamo evitare che ci sia una Toscana che produce rifiuti e una parte della Toscana invece che li smaltisce però le proposte riguardano un po' tutto il territorio ma questa è una comunicazione di sole 6 pagine dove sostanzialmente descrivono in maniera sintetica queste 39 proposte questi 39 progetti che imprese private hanno diciamo manifestato di voler costruire in regione Toscana siamo ancora lontani da una definizione completa di quello che sarà il futuro della gestione dei rifiuti nella nostra regione una gestione di rifiuti che naturalmente sconta e questo l'ha detto anche l'assessore chiaramente un gap infrastrutturale che è frutto di mancate scelte di decenni e che oggi attraverso una procedura che è anomala si cerca di colmare ed è anomala perché anziché partire da un dato che è quello dei fabbisogni territoriali e quindi di capire esattamente all'interno dei singoli territori qual è la capacità e quindi la necessità di smaltire oggi si parte da una logica diversa si chiede agli investitori sostanzialmente di risolvere il problema ecco questo è un percorso che ad oggi è stato gestito sostanzialmente dalla giunta oggi noi invece crediamo che questo confronto e questo approfondimento debba ritornare al consiglio debba ritornare oggetto di approfondimenti nelle commissioni consigliari soprattutto perché è indispensabile un coinvolgimento dei territori sicuramente questo favorisce sotto un certo aspetto lo sviluppo economico quindi la possibilità di nuovi investimenti e di creare magari si spera anche sui territori occasioni anche per posti di lavoro e innovazione questo è sicuramente un dato positivo perché significa che c'è un tessuto imprenditoriale che può investire in un settore che sicuramente oggi è una prospettiva futura da una prospettiva futura importante ciò non toglie che faccio un esempio noi abbiamo tre ambiti territoriali ad oggi gli ambiti territoriali definiscono i fabbisogni quindi noi dobbiamo stare molto bene attenti a calibrare esattamente gli impianti dove c'è bisogno tanto per intendersi è inutile fare 100 impianti sulla costa quando nel capoluogo e su Firenze ad oggi noi scontiamo la mancanza primo tra tutti di un termo valorizzatore che sappiamo tutti quanti che tipo di diciamo decisione ha subito però nella parte ferentina sulla piana e sul capoluogo è impensabile che non ci siano degli impianti adeguati e moderni la valutazione del piano è negativa perché è un piano che demanda ai privati le iniziative che dovrebbe prendere la regione soprattutto nell'idea di un riciclo e un riuso della materia ma soprattutto si parte da una concezione ormai vecchia che è quello che tratta i rifiuti a valle quando a nostro avviso dovremmo pensare a produrre meno rifiuti fermo restando che di tutte le proposte arrivate la gran parte sono impianti di trattamento fondati su concezioni che in pratica sono degli inceneritori mascherati mi riferisco ai gasificatori e ai pirulizzatori che comunque hanno emissioni di sostanze nocive e ricordo a tutti che l'Italia in questi giorni è stata multata dalla Corte di Giustizia Europea proprio per la cattiva qualità dell'aria bene anche per questa occasione è tutto noi con Marcello Sani Simone Scalaberni e la nostra regia vi salutiamo vi ringraziamo per la cortesia e l'attenzione che è da sempre dedicata a questa rubrica e vi rimandiamo al prossimo appuntamento con le attività del Consiglio regionale della Toscana grazie a tutti Regione Toscana il Consiglio regionale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti